L'euro si muove moderatamente a ribasso nei confronti del biglietto verde. Il cross euro-dollaro USA quota 1,105 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,0988 Si rafforza la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di novembre, con l'indice risultato pari a 101,3 punti Il biglietto verde scambia a rialzo nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA yen quota 109,51, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 109,84 La fiducia dei consumatori americani si è attestata a 125,5 punti a novembre La sterlina è stabile nei confronti del biglietto verde a quota 1,2912 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di resistenza visto in area 1,2943 dollari Gli investitori sembrano aver ben accolto il possibile scenario di una Brexit concordata con l'Europa nei tempi previsti L'euro consolida a rialzo nei confronti dello yen. La coppia scambia 120,53, con la nuova area di resistenza vista a 120,91 Brusco calo dei consumi in Giappone, con le vendite al dettaglio diminuite del 7,1%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente Grazie a tutti